Nove conferme tra assessori e consiglieri uscenti, tra questi anche il sindaco Quintavalla e tre nuovi ingressi, questi i dodici candidati della lista civica Castelvetro per te guidata da Silvia Granata che ha accettato la candidatura a due condizioni. Una importantissima che è la presenza in lista e in campagna elettorale di Luca perché senza di lui non avrei accettato, la seconda imprescindibile che tutto il gruppo storico di Castelvetro per te che è attualmente in consiglio comunale si è ripresentato. È una lista svincolata da qualsiasi logica di partito, è una lista che rappresenta lo spirito civico di chi vuole partecipare alla vita del paese e a trattare anche temi multidisciplinari del paese, è una lista che mette a servizio del paese professionalità diverse e anche storie personali diverse. E poi ci sono tre nuovi ingressi, Lauretta Gatti, Elisa Magistrati e la 22enne Martina Zerbini. Tre donne in gamba, grimpose, motivate, con le quali la squadra è veramente al completo. Il programma è in continuità con l'amministrazione uscente ma anche progetti nuovi. Altri progetti di rigenerazione urbana che significa non solo riqualificare luoghi ma renderli attrattivi, renderli vivibili con una valenza particolare oltre che all'efficientamento del costruito anche alla cultura e alla fruizione della comunità. Poi ci rivolgeremo a una riqualificazione importante dell'area del Po e poi azioni importanti ancora a favore delle famiglie nelle varie fasce di età. Sull'altro fronte il centrodestra non è riuscito a compattarsi e quindi potrebbe presentarsi con due schieramenti. Vivi Castelvetro, minoranza uscente che a giorni presenterà il candidato sindaco e il neo gruppo civico Castelvetro Futura che ha reso noto di presentare come candidata sindaca la 35enne Francesca Albanesi, laureata in beni artistici e storia e critica dell'arte, una figlia e un compagno, figlia di Maura Gandolfi, attuale consigliere di minoranza della Lega. Dunque al momento a Castelvetro una sfida tutta femminile. Nonostante le divisioni sarà comunque una campagna dura in un paese dove alle ultime politiche il centrodestra ha preso quasi il 60%. Il sindaco uscente è Quintavalla. Sarà una campagna elettorale comunque difficile da affrontare con determinazione e con la volontà di spiegare ai cittadini le nostre progettualità. Noi abbiamo fatto tanto in dieci anni ma c'è ancora molto da fare. Quindi su questo e sulla partecipazione punteremo da qui al 14 maggio.